Cioè ragazzi qua vei poi adesso qua tornati come vissimi di Tour de France 2020 Tappo a noi 16 che viene dopo il giorno di riposo E Tour de Pen fino a adesso da Villar de Lens esatto Quindi sedicesima tappa, altra rimessa a Lita Do che però è in terza categoria C'è un prima categoria poco prima della fine Dovremmo stare attenti come vincenzo Nibali Però questa non la classiferei come una tappa da 5 stelle Potrebbe reggere qualche velocista, non penso Nel che Jasper Steuben che comunque si difende abbastanza bene in collina Non penso riesca a rimanere Uno scattista però potrebbe riuscire a vincere Peccato che non ce li abbiamo in gruppo, in squadra più che altro Forse un Tom Scuin si potrebbe rimanerci Ma la vedo dura Quindi noi ragazzi ci vediamo allo sprint intermedio con Jasper Steuben Con cui non sapreste andare in fuga Anche se è abbastanza presto lo sprint Quindi magari poi ci rialziamo e riusciamo a giocarci la fine Comunque Vedremo, ci vediamo comunque allo sprint A dopo Ragazzi 3 km allo sprint intermedio Ci siamo con Jasper Steuben Siamo in fuga in 14 Con tanti scalatori Sembra che il gruppo stia lasciando andare molto la fuga Quindi forse consideranno questa tappa la fuga Facciandoli guadagnare minuti su minuti Vedremo Speriamo perché dovessimo resistere sulla prima categoria con i Steuben Avremmo davvero molte chance di vittoria Vediamo Ora siamo allo sprint però Un chilometro adesso Vediamo se Ci risponde qualcuno Probabilmente Jungels Sì perché lo vedevo abbastanza Abbastanza voglioso Diamo attenzione però perché Nicolas Roche ci potrebbe Sopravanzare Ricolas Roche Mi sono fermato E ci ha battuto Ma non so come davvero Vabbè Ci prendiamo comunque due punti in meno Cosa vuoi che sia dai Ma ecco poi perderemo per davvero due punti Vabbè Noi adesso ci rivedremo appena si scatena a bagarre Se si scatena a bagarre tra i migliori Se no Vedremo solo qua davanti come andrà A dopo Se siamo ai piedi Del Del Sainizier Du Boucherot 16,7 Chiaramente al 5,5% Salita pedalabile Però molto molto lunga In cui Ecco le sommità Ci sarà anche un po' Siamo ancora in fuga con Jasper Steuben A cui purtroppo ho dovuto già dare il gel Perché se no non sarebbe riuscito a tenere le ruote di questi Di questi qua 11 minuti e 0-1 Per il gruppo che ormai è tagliato fuori come pensavo Dalla vittoria di tappa Vediamo se qualcuno dietro attacca Non penso perché comunque Siamo ancora tanti in gruppo Metterei comunque Vincenzo Che non sta bene Quindi meglio se qualcuno non attacca Seguire gli attacchi insieme a Molema E Ciccone e anche Riciport Se mai dovesse succedere qualcosa Anche se non penso Molto difficile secondo me Anche se dietro il gruppo comunque ha accelerato Qui davanti Steuben sempre con meno energie Non so se riuscirà a rimanere in questo gruppo Difficilmente Perché comunque non abbiamo più gel E mancano ancora Manca ancora parecchio Anche qua davanti hanno Comunque aumentato Ecco che crolliamo Purtroppo non posso davvero farci nulla Serve un miracolo Perché Steuben riesca a rientrare su questo gruppo Che è fatto principalmente da scalatori Quindi Anzi forse Nella sua totalità da scalatori Perché vedete Sono Zacharin Shackman Che comunque è un mezzo passista Però Ci siamo capiti Qua dietro comunque il gruppo Ha aumentato l'andatura Quindi stiamo attenti Steuben intanto Continua a crollare Vediamo se riusciamo a prendere Comunque punti Allo sprint finale Magari Dietro Nibali Non sta tanto bene Perché Come vedete Ha già pochissima energia Praticamente le stesse di Ricciport Diamo un gel blu a Ricciport Intanto Io Passerei a Nibali Tanto qua davanti Non abbiamo nulla Da vedere Steuben a 3 minuti e 27 Proprio crollato Dato un po' di gel a Vincenzo Vediamo se magari sul muro finale Qualcosa succede Attenzione perché si è staccato Mollema Qui non ho dato il gel Non sono dimenticato Vabbè Fa niente Non ho dato il gel Ah Bauke Mollema 900 metri adesso Allo scollinamento Abbiamo ancora una frazione di gel A Vincenzo Che Oggi sta davvero male Anche Thomas Attenzione si è staccato Vabbè che ha 20 minuti Però si è già staccato Garen Thomas Pardon Mea culpa Per Mollemaco Mi sono dimenticato di dare il gel Non c'è neanche una discesa Dopo questa Qua io direi Steuben Di andare a un 50% Intanto ormai Non deve più chiedere nulla Avanti stanno Sono partiti i form Lo Roche Schakman E Romain Bardet Sono rimasti in 4 Vedete Sono 4 scalatori Sono stato Troppo buono Con Steuben Pensando che Potesse rimanere Davanti Purtroppo Non è stato così Dietro 8 e 13 8 e 14 Per il gruppo Che si è rialzato Nuovamente Quindi se la giocherà Solo sul finale Sul breve rampa Terza categoria Poi Mollema Forse dietro Potrebbe anche rientrare Vediamo se Posso fargli fare Uno scattino Perché comunque Lui di energia Ce le ha Spesso che mi sono Dimenticato io Ok Ci siamo Quindi Ricciport Che sta coprendo Vincenzo Ricciport che ha più Energia di Vincenzo Vabbè Maglia verde 4.2 km Ora Mettiamoci le prime posizioni Con Vincenzo Per non Dover poi Rimontare Eventualmente Posizioni Gelblu Lo lascerei Com'è Perché ormai Non ci serve più Vediamo se riusciamo A strappare Qualche secondo Ai nostri Rivali Magari Cogliendoli Impreparati 57 secondi 57 corridori In questo gruppo Che quindi Si è rinfoltito Attenzione A Giuliana Filippo Sembra Procinto Di partire Un finale Adatto Alla sua caratteristica Purtroppo Però è arrivata La fuga Anche Valverde Sembra Il trampolino Di lancio Villar Delance 2.2 km All'8% Proviamo a uscire Con Vincenzo Però C'è Venepul E Ci sono Venepul E Giuliana Filippo Che sembrano Intenzionati A Fare il buco Vediamo Stuyven Là davanti Lo direi Di farlo attaccare Che magari Riesce a difendere La posizione Che è comunque Ottima Direi Dobbiamo Comunque Difenderci Perché qua Nessuno Sfera Un attacco Forte Prendiamo Un po' Di gel Blu E Proviamo A Sopravanzare Qualcuno 600 metri Il chilometro Finale Con una rampa Al più Dell'8% Sicuramente Proviamo A uscire Con Vincenzo Nibali Vediamo Se riusciamo A prendere Qualche metro Isagir Dietro Prova a chiudere Probabilmente Per Jakov Fulsan Nibali Forse a qualche Secondo Lo prenda Attenzione Perché il gruppo Si è rotto Valverde Nibali Vince la volata Del gruppo Non penso Ci sia stato Un buco Anche se Nelle prime posizioni Non vedevo Non vedevo Jakov Fulsan Non vedevo La sua maglia Gialla Ciccone Che oggi Termina Proprio Le sue ambizioni Di classifica Ma Non è un problema Perché comunque Quello Dobbiamo Curare Solo La classifica Gli scalatori Quella della Maglia Pua Philipsan Non dovrebbe Arrivare Fuori Tempo Massimo Infatti Riesce A Arrivare Qui Ci faranno Vedere Gli ultimi Chilometri Che Con Vincenzo Non ci Interessano Steven Vediamo Se ha preso Qualche Punto Tra Etapa Quindi Per Formula Maglia Gialla Per Fulsan Maglia Verde Nonostante Tutto Ancora Per Grone Vegan Sarà Di Pochi Punti Ma le Bianche Gambernal Classifiche Che Rimangono Anche Oggi Invariate Tanto Per Cambiare Vediamo Classifica Di Tappa E Poi Quella Generale Aggiornata Inizio Di Progresso Di Gioco Vince Formula Su Shackman 8 8 Secondi Sulla Air Poi Bardet 44 1 13 Nicolas Roche 1 43 Bobby Jungels 1 43 Wilbau 2 11 Zachary 3 48 Powels A 9 02 Jasper Steven Che Quindi Chiude Decimo Undicesimo Nibali A 9 33 Che Con Valverde Riescono A Rosicchiare 5 Secondi Sul Gruppo Con Chiaftoski 9 Continuo A non Vederlo Forse Sono Stupido Io Probabilmente Si Ast 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 Lopez Luzenko Luzenko Scusate Ast Non Li Vedo Ragazzi Qua Non C'è Non C'è Jakov Fulsang Non è Possibile Ah no Eccolo Qua 9 49 Ok Comunque Qualche Secondo Siamo Riusciti A Rosicchiarlo Anche A Jakov Fulsang 16 Secondi Quindi Saliamo A 4 Minuti 0 1 Pinue La Philippe E Quintana Invece Guadagnano Molte Posizioni Con Ciccone Che Ne Perde 7 E Va A 21 Minuti Ma Non Ci Importa Come Già Vi Ho Detto Molle Ma Ottavo Riesce A Mantene Invece La Posizione Quindi Ragazzi Andiamo a Vedere La Classifica Maglia Verde Prima Di Salutarci 4 Punti Ancora Di Vantaggio Per Green Vegan Possiamo Dirlo Ha Davvero In Minuti Contati Vedremo Se Riusciremo A Scalzarlo Dalla Sua Posizione Noi Ragazzi